Sì, chiederò la revoca, quindi arriverà lo schema di decreto al Presidente della Repubblica per la revoca del sottosegretario Siri. Abbiamo anche acquisito il parere del Consiglio dei Ministri che ha ribadito piena fiducia nel mio operato e ha preso atto di questa mia iniziativa. È stata, vi dico, anche una discussione molto franca, non banale, perché ho ritenuto questo un passaggio politico e non meramente burocratico e amministrativo. Quindi c'è stato un confronto, direi un confronto leale, un confronto aperto, all'esito del quale c'è stata piena fiducia al mio operato. Sono, diciamo, a parte l'aspetto umano su cui, come ho già dichiarato, bisogna riconoscere assolutamente al sottosegretario Siri la presunzione di non colpevolezza, c'è un aspetto importante. Ritengo che il Governo, in questo caso, sia comportato nel modo migliore perché è la soluzione alla luce di tutte le circostanze che ritengo più giusta. Noi dobbiamo comunque preservare il patrimonio di fiducia dei cittadini nei nostri confronti. Se perdiamo la fiducia dei cittadini, se non avremo più i cittadini al nostro fianco, difficilmente potremo proseguire in modo efficace nell'azione di governo, difficilmente potremo vantarci di essere il Governo del cambiamento. Grazie.